Il mio nome è Willy Wonka. Sono una sorta di mago e cioccolatiere. È buono. Troppo buono. Dovrebbe ribellarsi a quei bulli. Con un bel uno due. Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato, ovviamente. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Perciò tu tieni distretto il tuo. È tempo di cambiare il mondo. Wonka. Dal 14 dicembre al cinema. Grazie.